G7 salute ad Ancona, oggi l'inizio dei lavori alla mole vanvitelliana, tra i temi trattati la resistenza antimicrobica e il cambiamento climatico. Presunte irregolarità nell'affidamento di soldi pubblici a due associazioni di Pesaro, oggi il blitz di Polizia e Finanza in Comune, Biancani commenta, ho piena fiducia nella procura. Ex Vittoria Colonna ha approvata la convenzione per l'utilizzo del parcheggio, saranno 50 i nuovi stalli di sosta e la prima ora sarà gratuita. L'installazione di un'isola ecologica al porto e corsi di educazione ambientale nelle scuole, le richieste del Movimento 5 Stelle di Fano che ha depositato un'interrogazione. A Pesaro, Pierdante Piccioni, che ha ispirato la serie TV Doc nelle tue mani, interpretato da Luca Argentero, l'ex primario del pronto soccorso di Lodi e Codogno, ha perso 12 anni di memoria a causa di un incidente che gli ha provocato un trauma cranico. Da domani, la tre giorni conclusiva del premio letteraria con i mille studenti di 12 istituti, chiamati ad individuare i vincitori delle due sezioni all'interno della Rosa dei Finalisti, presenti a Fano per una serie di appuntamenti. Cari telespettatori di Fano TV, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di occhio alla notizia sul canale 19 di Fano TV. A Dancona questa mattina sono ufficialmente iniziati i lavori per il G7 Salute. Ci colleghiamo allora con Marco Lonigro, che vedo pronto, che si trova nella mole vanvitelliana, sede appunto del G7, per il racconto della giornata odierna. Marco, a te la lì. Sì, esatto Filippo, buonasera. Oggi è iniziato il G7 Salute ad Ancona, nella splendida location della mole vanvitelliana. Oggi, questa mattina alle 9.15, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha accolto le figure chiave della sanità mondiale. A fare gli onori di casa anche il sindaco di Ancona, il primo cittadino di Ancona, Daniele Silvetti, che ha ringraziato i cittadini perché, nonostante alcuni disagi losistici causati da alcune chiusure delle vie della zona del porto e non solo, quindi anche del centro, comunque diversi cittadini, molti cittadini, hanno compreso l'importanza di questo evento. E poi il governatore della regione Marche, Francesco Acquaroli, che questa mattina ha parlato ai giornalisti presenti dopo aver salutato i ministri. Sentiamo l'intervista. Beh, una importanza che credo sia sotto gli occhi di tutti. Ancona e Le Marche oggi sono la capitale della sanità mondiale, dove tanti ospiti di caratura internazionale si sono ritrovati da noi per affrontare le sfide del futuro. Credo che questo debba essere un grande orgoglio, ma anche una grande responsabilità sotto molteplici punti di vista. Presidente, la salute marchigiana è un modello di mitare? La salute marchigiana, nonostante tutte le criticità post-Covid e tutte le difficoltà di questo momento che purtroppo dipendono da tante variabili e non tutte riconducibili, chiaramente al nostro operato, è una sanità che a livello nazionale sicuramente ha dei risultati importanti. È una regione che storicamente è tra le prime per il rispetto di Lea, è una regione benchmark, quindi unisce la qualità dei servizi anche alla tenuta dei conti. Nelle Marche per due anni consecutivi abbiamo avuto il miglior ospedale pubblico d'Italia, soprattutto dato che si parla anche di longevità. La nostra è una regione che ha nel suo DNA la longevità, una delle regioni più longevi d'Europa, e abbiamo IRCA che è l'unico istituto nazionale dedicato proprio alla ricerca sulla geriatria. Dunque oggi il primo dei due giorni riguardante il G7 Salute a Dancona, questa mattina è intervenuto anche il Ministro della Salute, allora sentiamo il suo saluto e il messaggio di benvenuto nel prossimo contributo. È un piacere ed un onore essere qui con voi oggi per questa rionone conclusiva dei Ministri della Salute del G7. Do il benvenuto a tutti i delegati dei membri del G7 provenienti da Giappone, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Canada e Unione Europea, a tutti i delegati dei Paesi ospiti provenienti da Albania, Brasile, India, Arabia Saudita e Sudafrica, e infine a tutti i delegati delle organizzazioni internazionali qui presenti, FAO, OMS ed OXE. Il vostro prezioso sostegno è stato estremamente importante ed utile per la preparazione di questa riunione ministeriale della Presidenza italiana del G7. La vostra presenza qui oggi riflette il vostro impegno a portare avanti le importanti tematiche che oggi discuteremo insieme. Siamo portatori di un bagaglio di esperienze, prospettive e idee e sono certo che questa collaborazione produrrà progressi significativi. E ora andiamo nel dettaglio della mattinata perché dopo i saluti questa mattina si sono svolte ben quattro sessioni. Si è parlato di resistenza antimicrobica e cambiamento climatico secondo l'approccio One Health. Poi si è svolta una riunione congiunta dei ministri delle finanze e della salute. E infine nell'ultima sessione della mattinata si è parlato del rafforzamento dell'architettura sanitaria globale. Nel corso della mattinata il ministro alla Sanità Schillaci ha spiegato il perché hanno scelto Ancona come sede di questo G7 Salute. Poi anche una battuta nel corso dell'intervista con i giornalisti presenti sulla relazione tra fondi e sanità. Sentiamo. Siamo venuti qui nelle Marche anche perché l'ospedale universitario di Ancona, il policlinico di Ancona delle Torrette, è risultato per il secondo anno consecutivo il miglior ospedale pubblico italiano con i dati del ministero di Agenes. Questo testimonia quanto la giunta del presidente Acquaroli sia attenta ai temi della salute e quanto ci siano ospedali e sanità di qualità in questa regione. Eppure l'assessore ha richiesto comunque più fondi, l'Italia è uno dei paesi del G7 che riserva meno fondi alla sanità, si potrebbe avere più fondi dal PIL? L'Italia storicamente ha dato meno soldi alla sanità di quello che hanno fatto altri paesi europei, soprattutto nel decennio tra il 2010 e il 2020. Quest'anno c'è l'impegno a continuare a finanziare il servizio sanitario nazionale, è quello che mi preme dire anche in questa occasione che oltre ad avere più soldi è importante che le regioni le spendano bene. E domani l'ultimo giorno dedicato al G7 Salute a Ancona, previste altre due sessioni nelle quali si parlerà di invecchiamento attivo e di salute attraverso la prevenzione in tutte le fasi della vita e poi spazio anche alla relazione tra intelligenza artificiale e salute. E domani poi a chiudere la giornata, nell'ultimo giorno del G7 Salute a Ancona, la conferenza stampa della Presidenza italiana. È tutto, linea allo studio. Bene, grazie Marco per questo collegamento. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale parlando di cronaca con il blitz della Guardia di Finanza e della Polizia. Questa mattina al Comune di Pesaro, poco dopo le ore 9, alcuni agenti in Borghese sono entrati nel Palazzo di Piazza del Popolo per effettuare accertamenti nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento di fondi pubblici a due associazioni del pesarese, Stella Polare e Opera Maestra. In particolare, questa mattina, le forze dell'ordine si sono recate all'ufficio di Franco Arceci, ex capo di gabinetto della precedente amministrazione a guida Matteo Ricci. Le indagini stanno proseguendo, ha detto l'attuale primo cittadino Andrea Biancani. Rimarco la mia personale e massima trasparenza, disponibilità e apertura sulla questione. Ora aspettiamo con fiducia l'esito dell'inchiesta che chiarirà, a me in primis, la realtà dei fatti. Come neosindaco avrei volentieri fatto a meno di questa situazione. Ho massima fiducia nei confronti della Procura e di chi svolge le indagini. A Urbino l'ultima disinfestazione antizanzare delle tre programmate nel centro storico prevista per la notte di venerdì 11 ottobre è stata revocata. La misura precauzionale non è più necessaria poiché il presunto caso di dengue in un soggetto di passaggio in città è risultato negativo. La giunta comunale di Fano ha approvato il contratto di convenzione per l'utilizzo del parcheggio dell'ex convitto Vittoria Colonna. Un passo cruciale per la riqualificazione di un'area che negli ultimi anni era diventata un simbolo di degrado e insicurezza. L'accordo prevede l'utilizzo dell'area esterna come parcheggio pubblico offrendo una cinquantina di nuovi stalli di sosta. Questo andrà a risolvere una delle principali criticità del centro storico dove la mancanza di parcheggi scoraggia residenti e visitatori penalizzando anche il commercio locale. La prima ora sarà gratuita mentre dalla seconda è previsto il pagamento del ticket. Infimit si impegna a garantire la manutenzione dell'area compresa la potatura del verde e l'installazione di misure di sicurezza sia passive come le barriere contro le intrusioni che attive inclusa l'installazione di impianti di videosorveglianza e sistemi di allarme. Il comune di Fano da parte sua realizzerà tutte le infrastrutture necessarie per il funzionamento dell'area come parcheggio compresi l'impianto di illuminazione pubblica e la ristrutturazione degli accessi. E vi ricordo che sabato mattina alle ore 10 trasmetteremo in diretta sia in tv che sulle nostre pagine social la conferenza stampa del sindaco Sir Filippi e della sua giunta che faranno il punto sui primi 100 giorni di mandato. L'evento sarà aperto ai giornalisti e si svolgerà nell'ex chiesa di San Pietro in Valle. Il sabato in diretta su Fano TV presentiamo un momento molto importante che sono i primi 100 giorni del nostro mandato. Sicuramente sono stati 100 giorni molto intensi con tante cose fatte e rispettate ma con altrettante sfide da portare avanti. Quindi siamo riusciti a presentarla e riaprire in maniera veramente eccezionale San Pietro in Valle che è una delle chiese barocche più importanti delle Marche e del centro Italia ed è una bellezza che dobbiamo assolutamente riaprire tutti i giorni. E questo è l'impegno che ci prendiamo come riapriremo da lunedì San Francesco tutti i giorni perché non è possibile vedere turisti che si fermano e non possono entrare negli angoli della cultura della nostra città. Sabato presenteremo tutte le iniziative fatte in questi primi 100 giorni quindi invito tutti quanti a seguire Fano TV e ai passanti di passare a San Pietro in Valle perché sicuramente sarà un colpo d'occhio fantastico. E sarà proprio il sindaco Ser Filippi l'ospite della prima puntata della nuova stagione di Primo Cittadino che prenderà il via lunedì 14 ottobre in diretta alle ore 19 e in replica in prima serata. Le modalità per intervenire saranno sempre le stesse telefonando allo 0721 86 14 33 oppure inviando un messaggio su WhatsApp al 338 49 68 250. E sempre su questo numero di telefono ci arrivano quotidianamente le segnalazioni dei nostri telespettatori. Questa sera vi facciamo vedere le foto scattate da un reporter di strada al fosso che da Bellocchi va verso il cimitero. L'acqua non scorre, ha precisato il segnalatore, perché il tubo nel passo carrabile è intasato da rami e foglie dall'ultima pioggia. L'acqua esce e inonda la strada per finire nel lato opposto. Un altro telespettatore invece chiede di tagliare le canne al lato di via Papiria che invadono la strada. L'automobilista ha spiegato, è costretto a sporgersi al centro della carreggiata rischiando incidenti per l'alta velocità delle auto e delle moto che si dirigono verso la zona industriale di Bellocchi. E rimaniamo a Fano dove i consiglieri del Movimento 5 Stelle tornano a chiedere l'installazione di un'isola ecologica al porto e corsi di educazione ambientale nelle scuole. Dopo due interrogazioni discusse in questi ultimi anni in Consiglio Comunale sull'esigenza di installare un'isola ecologica al porto di Fano, ora sollecitate la nuova amministrazione. Quali sono le esigenze degli operatori e quali i benefici? I benefici sono in dubbio, tant'è vero che è stata una legge approvata con un po' di fatica in Parlamento due anni e mezzo fa. I benefici per gli operatori sono non di poco conto perché poi raccolgono tanta roba in mare. Negli anni aumenta sempre di più rifiuti, plastiche, reti, copertoni, insomma tanta roba che loro nel 90% dei casi, forse esser buoni, ributtano in mare perché non sanno dove conferirli. Quindi questa legge salva mare appunto approvata a maggio del 2022 prevede appunto che ogni comune si faccia parte in causa finché vengano installate queste isole ecologiche nei porti per poter far conferire agli operatori del settore il materiale che raccolgono quotidianamente in mare come plastica, vetro, insomma tutto il materiale che troviamo anche noi nelle spiagge quando andiamo al mare specialmente in periodi non estivi. E troviamo degli esempi anche vicini a noi. Basterebbe copiare quello che hanno fatto a Pesaro. Pesaro, la legge è stata approvata a maggio del 2022 e Pesaro a luglio del 2022 è già installato all'isola ecologica. Probabilmente loro avevano già fatto delle azioni propedeutiche. L'assessore della scorsa amministrazione ogni volta che abbiamo fatto interrogazioni ci hanno comunicato delle difficoltà burocratiche con la regione, con la capitaneria. Però insomma se altre città in Italia, come già da Pesaro, ma non solo, ce ne sono tantissime, che l'hanno installato, voglio dire che sono questioni superabilissime, insomma, non capiamo questa difficoltà. Ora noi chiediamo a questa nuova amministrazione, visto che in regione sono dello stesso colore, quindi queste difficoltà probabilmente come si usa purtroppo nella cattiva politica, vengono superate a volte queste difficoltà, quindi noi sollecitiamo questa amministrazione a far sì che vengano installate più presto. Insomma è un problema che anche gli operatori, anche in campagna elettorale, fra le tante proposte dei primi 100 giorni, se non ricordo male, in una riunione era stata anche promessa, perché è stata richiesta dagli operatori stessi. Citate in questa interrogazione anche l'educazione ambientale nelle scuole, giusto? Esatto, è qualcosa che è inserito nella legge che prevede che a contorno di tutto questo discorso dell'isola ecologica ci sia anche, ben che le amministrazioni organizzano dei corsi di educazione ambientale legati alla legge salvamare, chiaramente le ha elencate principalmente legate al discorso del mare, ma visto che a Fano c'è un certo tipo di cultura ambientale con Casa Archilei e le veri associazioni, abbiamo il laboratorio di microbiologia marina, voglio dire, le competenze ci sono assolutamente per poter fare corsi a cominciare dalle scuole materne, direi, dagli asili, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, insomma, tutti, tutte le scuole. Ieri sera alla polisportiva La Combattente è stata presentata la lista Fano Cresce, nata dall'esperienza della scorsa campagna elettorale a sostegno del centro-sinistra fanese e del candidato sindaco Cristian Fanesi. Nasciamo, ha spiegato la consigliera Ippolita Bonci del Bene, per allargare il centro-sinistra a Fano e per favorire la partecipazione attraverso la nostra presenza in Consiglio Comunale. È importante, ha aggiunto del Bene, dare voce a coloro che si sentono parte del centro-sinistra, ma orfani di rappresentanza e soprattutto di aprire la politica all'ascolto e alla condivisione, affrancandosi definitivamente da una politica fatta di personalismi. È necessario un rinnovamento del centro-sinistra a tutti i livelli, nazionale, regionale e comunale, per lavorare e costruire un'alternativa alla destra in vista delle prossime sfide politiche. La biosfera di Piazza del Popolo è tornata ad accendersi dopo l'atto vandalico subito nei giorni scorsi tra sabato e domenica che ne aveva manomesso il funzionamento. Il simbolo di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, è tornato quindi ad illuminare e intrattenere turisti e cittadini in Piazza del Popolo. Qualcuno aveva prima staccato la rete metallica protettiva, poi manomesso i dispositivi elettronici dell'installazione scultorio-digitale. Per sicurezza e per consentire alle forze dell'ordine di risalire agli autori dell'atto, la biosfera è stata spenta per tre giorni. Nel frattempo è stata sporta denuncia contro ignoti e sono stati acquisiti i filmati della Questura e della Polizia Locale che stanno analizzando le immagini al fine di individuare, nel minor tempo possibile, i responsabili. Martedì sera si è svolta a Pesaro un incontro organizzato dal Centro Culturale Città Ideale con Pierdante Piccioni, il medico ed autore del libro Io ricordo tutto che con la sua vita ha ispirato la serie TV Doc nelle tue mani. Cristiana Guerra. Dalla medicina alla narrazione ad un film. Si tratta della storia raccontata in una serata unica ed emozionante che ha avuto come protagonista l'ex primario del pronto soccorso di Lode e Codogno, Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato una serie TV dal titolo Doc nelle tue mani. Dopo aver dimenticato 12 anni di vita in seguito ad un incidente stradale, grazie alla sua famiglia e ai suoi affetti, Pierdante Piccioni ha provato a ricostruire ciò che ha perso attraverso la narrazione, un incontro toccante ed un'esperienza vissuta che il medico ha raccontato di fronte ad un numeroso pubblico, martedì sera a Pesaro, con la presentazione del suo ultimo libro dal titolo Io ricordo tutto. Promotore della serata, nell'ambito degli incontri organizzati per Pesaro, capitale della cultura, il Centro Culturale Città Ideale, che ha invitato a conversare con l'autore il sacerdote missionario Eugenio Nembrini. Io ricordo tutto è il titolo del suo libro, un libro che parla di sentimenti e medicina in cui Ernesto Ferrari è il protagonista. Essendo io un amnesico sono venuto a conoscenza di persone che sono l'esatto contrario mio, cioè gli ipermnesici esistono davvero, è una caratteristica della mente umana, qualche persona ce l'ha e hanno proprio la capacità di ricordare tutto, ma tutto tutto, cioè qualunque cosa del 15 anni prima, 20 anni prima, 30 anni prima. Ecco, un personaggio che essendo proprio il mio contrario mi affascinava da una parte e mi inquietava dall'altra. Ho provato a rappresentarlo in un libro insieme al mio amico e compagno di scrittura, Pianangelo Sapegno. Ricordare tutto è poi così bello, secondo lei? Ma guardate, quando abbiamo iniziato a scrivere il libro io ero convinto che fosse un valore aggiunto. Man mano che ci siamo messi a scrivere, abbiamo sviluppato questo personaggio, ho cominciato a cambiare idea, alla fine non sono così convinto che ricordare tutto sia un vantaggio. Parola di amnesico. Ecco, inevitabile non parlare di quel 31 maggio 2013, cosa è cambiato da allora nella sua vita? Sono un'altra persona, completamente, sia come tipo di lavoro, perché ho deciso di non fare più il primario di pronto soccorso, oggi sono l'ex primario del pronto soccorso di Codogno, paese che non conoscete, che nessuno conosce ovviamente, dove è stato scoperto il Covid la prima volta. E' cambiato tutto perché ora mi occupo di gravi disabili, io vado a casa delle persone, mi occupo, come dicono i miei figli, di quelli che mi assomigliano un po' di più rispetto a quelli che entrano in pronto soccorso. Riuscite a cambiare anche un po' il suo carattere? Questo è quello che mi dicono. Ogni tanto faccio dei pranzi, delle cene con i miei ex collaboratori che mi dicono tutte le volte, doc, ad avere saputo che venivi fuori così, te la davamo noi una botta in testa molto, ma molto tempo prima. Lei è riuscito a recuperare qualcosa di questi 12 anni persi, diciamo? No, assolutamente niente, nonostante varie terapie, sia farmacologiche che con stimolazioni elettriche, e non ho recuperato niente se non, come succede a noi amnesici, i ricordi degli altri. Questa è la cosa importante. Se incontri delle belle persone che ti restituiscono dei bei ricordi, la tua disabilità è un po' meno pesante. Dal libro a colui che ha ispirato una serie TV, che sentimenti ha provato quando gliel'hanno comunicato? Imbarazzo, perché comunque una parte di me è la mia pelle, è toccarsi le ferite, e dall'altra anche un po' di orgoglio, perché io ho fatto quello che ho fatto più che altro per dimostrare ai miei figli che la vita ti può buttare per terra, ma tu devi rialzarti. Per cui essere considerato come qualcuno che può essere un esempio è stato gratificante. Ci dovremmo aspettare un altro libro prossimamente? Tanto vi dovete aspettare la quarta serie di Doc, perché la stiamo sceneggiando proprio in queste settimane, e potrebbe essere che ci siano delle sorprese anche televisive, anche dall'ultimo libro, ma per scaramanzia non se ne parla. Proseguono gli eventi divulgativi sul tema della protezione civile promossi dalla Prefettura di Pesaro e Urbino. Questa mattina nel Salone Metaorense della Prefettura si è tenuto un evento sul coordinamento istituzionale nelle emergenze di protezione civile e sul sistema delle comunicazioni. All'incontro rivolto agli amministratori e al personale degli enti locali ha partecipato anche una rappresentanza di studenti del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro e del Polo 3 di Fano. Gli alunni hanno presentato quattro manifesti realizzati da loro e dedicati alla figura degli operatori di protezione civile che, in modo etico, si adoperano quotidianamente per il benessere della collettività. Si sono concentrate su cambiamento climatico, diritti negati e guerra, rapporto tra umano e intelligenza artificiale, le preferenze degli studenti che hanno partecipato all'edizione numero 11 di Letteraria, il festival nato e cresciuto in stretta connessione con il mondo della scuola che si appresta ad indicare i vincitori. Ce ne parla Andrea Maduzzi. Un migliaio di studenti coinvolti di 12 diverse scuole e 82 titoli in concorso di 42 diverse case editrici. Questi numeri che permettono di sagomare la dimensione di Letteraria, la rassegna di cui da domani a domenica si celebra la tre giorni conclusiva, dopo che già a partire da gennaio, ragazze e ragazzi sono stati impegnati nella duplice veste di lettori e giurati. Complessivamente sette finalisti, distribuiti fra narrativa italiana e traduzione di narrativa straniera, che rappresentano poi le due sezioni canoniche del premio. La trasversalità della platea, espressa non solo da licei ma anche da istituti tecnici e professionali, e la piena autonomia assicurata agli studenti, al momento di aderire all'iniziativa e poi di selezionare le opere, gli altri aspetti distintivi di un format, che raccoglie l'appoggio convinto dell'assessorato alla cultura del Comune di Fano e della Fondazione Carifano, che mette anche a disposizione San Domenico, con la Memo, uno dei due siti che ospitano gli eventi costruiti attorno ai finalisti, oltre che di Aset e Lions Club Fano. Diciamo che le tre giornate saranno fittissime, perché ogni pomeriggio prevede quattro incontri, due in Mediateca e due in San Domenico, organizzati in modo che si possano seguire tutti. La prima giornata avrà al centro il tema del cambiamento climatico, con i due incontri in Mediateca Montanari, tra i quali l'invito ad Ananadotti a parlare di Amitav Ghosh e della Grande Cecità, che è un saggio capitale dedicato al ruolo che la letteratura e l'immaginario letterario hanno nel costruire un mondo differente, lontano dal consumo così brutale, insomma, dallo spreco. E invece in San Domenico due momenti, diciamo così, estremamente gradevoli, perché uno sarà un racconto musicale di un autore, Pepe Millanta, che è un eclettico e quindi ci delizierà, appunto, anche lui, toccando i temi della cura per i luoghi, per il mare, in questo caso, insomma, che porta con sé storie. E poi l'incontro con il critico Filippo Laporta, perché quest'anno è il centenario della nascita di Goliarda Sapienza e il venerdì avrà un momento dedicato a lei. Ogni anno facciamo un omaggio a un autore, quest'anno a lei, con un Alexio Magistralis, e poi la sera, presso la Chiesa del Suffragio, ci sarà questo splendido spettacolo teatrale intitolato, appunto, Amara Sapienza. Gli altri temi, l'altro tema, quello dei diritti e della guerra, emerge per potentemente nelle giornate del sabato e della domenica, perché abbiamo due romanzi in finale, Zamir di Akan Gundai e Il Palazzo delle Lacrime di Sebnen Ezziguzel, che sono due scrittori turchi. Sebnen è una donna e parla dei diritti delle donne negati e Akan Gundai è un giovane scrittore che parla di campi profughi, della guerra e di quale possa essere, e di che cosa possiamo essere disposti ad accettare per la pace. Quindi sono temi molto forti e provocanti. La domenica l'intelligenza artificiale entra prepotentemente nelle giornate con l'omaggio a Kazui Shiguro, che è il premio Nobel per la letteratura, al suo romanzo Clara e il sole, con due momenti, un racconto originale costruito da giovani che collaborano con noi da alcuni anni, giovani lettori che diventano anche creatori di contenuti, un racconto per voce, quella di Luca Petrelli, su un testo scritto da Lorenzo Livieni, accompagnato dalla musica di Tommaso Bacchielli e, cosa che mi preme molto dire, da queste illustrazioni realizzate con l'intelligenza generativa da Tiziano Cremonini. E a chiudere l'Alexia Magistralis di Susanna Basso, che è la traduttrice, la voce italiana di Kazui Shiguro, nonché di tanti altri grandi scrittori inglesi, che appunto ci racconterà come questo tema entra nella letteratura. Letteraria è sicuramente un evento culturale di altissimo livello, la presenza di scrittori e di traduttori, non solo italiani ma anche esteri, la rende un momento molto importante, ma forse l'elemento principale di questa manifestazione è la presenza dei giovani, la presenza dei giovani delle scuole superiori, più di mille studenti, che per un intero anno diventano lettori e critici di queste opere. Quindi è uno spazio dedicato interamente ai giovani, per questo l'amministrazione comunale sostiene e continuerà a sostenere letteraria. Domenica 13 ottobre a Calcinelli, nel comune di Colli al Metauro, torna il Giro dei Tre Colli, la gara competitiva di 12,3 chilometri, che partirà alle 9.30 da Piazza Piofranchi dei Cavalieri. La gara sarà valida come dodicesima prova del circuito podistico pesarese, correre per correre. Nella stessa mattinata sono previste anche le corse per bambini, suddivisi in base alle fasce d'età ed una camminata ludico-motoria di 5 chilometri. La manifestazione, che gode del patrocinio del comune, è organizzata dall'ASD Calcinelli Run, in collaborazione con l'Avis di Colli al Metauro, l'Associazione Nazionale Carabinieri e la Proloco di Serungari. E questa era la nostra ultima notizia. Adesso ci sono le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato a Biosalus, il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico, condotto dalla nostra Rosalba Barattì. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Occhio ai giornali. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata sul nostro canale. Arrivederci. Grazie a tutti.